Primo incontro presso il Museo archeologico nazionale fra l'amministrazione comunale di Ponte Cagnano-Faiano e gli operatori del settore turistico della fascia costiera. Oggetto dell'incontro la presentazione da parte del governo cittadino di una serie di progetti per il miglioramento dell'offerta turistica in vista della stagione estiva. Fra i progetti vi è l'indizione di un bando per i taxi al fine di debellare il fenomeno dell'abusivismo e l'istituzione di un centro per l'assistenza turistica che avrà sede in Litorania e nel centro cittadino. L'inizio della stagione balneare inoltre verrà anticipato con apposita ordinanza. Il progetto è quello di rendere quella zona una zona appetibile, quindi ci sono sicuramente dei progetti, un'ambizione di medio-lungo periodo che è quella di riqualificare completamente quell'area e di renderla protagonista anche dal punto di vista turistico di tutta la zona della provincia di Salerno. Ci sono anche degli obiettivi di breve periodo come quella addirittura di immaginare già a partire da quest'anno di anticipare la stagione balneare dal primo maggio e vogliamo poi mettere in campo una serie di azioni che rendano vivibile quel territorio, quindi magazzeno, con iniziative anche culturali, ludiche, di concerti, quindi essere punto aggregante anche dei comuni limitrofi al nostro. Tra le questioni più calde che riguardano la fascia costiera c'è quella relativa al ripascimento. A che punto siamo? Lì siamo in via di definizione, abbiamo chiesto alla provincia di Salerno di essere parte attiva, quindi di stare anche all'interno del tavolo tecnico che farà parte del proseguimento, quindi non soltanto di spingere su questo iter di avvio della procedura ma anche di stare dentro le procedure per far sì che la gara vada avanti il più in fretta possibile tenendo conto delle diverse sensibilità che ci sono, aprendo dei tavoli anche di approfondire. Sono state proposte delle modifiche al piano originario? Siamo assolutamente d'accordo, disponibili, da parte di questa amministrazione c'è la volontà di approfondire il più possibile, a migliorare il progetto con una premessa fondamentale che è quella che il progetto deve andare avanti. Bisogna farlo perché è chiaro che quello può essere l'unico vero motivo di svolta di un territorio che oggi è completamente degradato. Capito lo mare, c'è stato un incontro con l'ARPAC? Sì, abbiamo iniziato ad attivare, abbiamo incontrato l'ARPAC perché vogliamo mettere in campo una serie di azioni di contrasto al fenomeno anche degli sversamenti abusivi. L'obiettivo è quello di non ritornare ogni anno con la solita notizia drammatica del divieto di balneazione e non è da porre in essere innanzitutto come amministrazione comunale una serie di attività di controllo affinché possiamo un giorno arrivare ad avere il mare pulito e quindi balneabile. Avevamo già stabilito con il sindaco Giuseppe Lanzara di partire subito con dei progetti affini al turismo a Ponte Cagnano. C'eravamo ripromessi che a gennaio ci mettevamo a lavorare subito sul bando taxi, stamattina ci siamo riuniti, a breve partirà tutto il motore per avviare questo bando, quindi diciamo che presto anche Ponte Cagnano avrà i taxi. Centro di accoglienza turistica, i famosi infopoint che adesso si denominano così, anche questo è pronto quasi la delibera per portarlo in giunta. avremo questo centro IAT che verrà gestito ovviamente dalla Proloco che mi affianca in tutte le iniziative turistiche. Avremo due sedi, una al centro della città e una che stiamo cercando di capire dove metterlo giù alla litoraneo proprio per essere a disposizione sia degli operatori turistici sia degli stessi cittadini. Dal punto di vista culturale invece quale iniziative si possono mettere in campo? Dal punto di vista culturale diciamo che noi attorno a una serie di eventi che stiamo cercando di programmare, noi siamo partiti stamattina con una programmazione del 2019 dove all'interno ci saranno sì degli eventi culturali, vabbè è inutile a dire che sia Musee Eclatè sia Faville passeranno alla prima edizione, quindi siamo già al lavoro per l'ampliamento di Musee Eclatè e dello stesso Faville Festival, però diciamo che nel 2019, non vado nei dettagli perché ci stiamo lavorando, sicuramente ci sarà un altro grande evento culturale che stiamo lavorando sulle revocazioni storiche. Stamattina ci siamo insediati con il gruppo di lavoro, stiamo cercando di preparare un progetto che porti anche un evento di revocazione storica che parte dall'anno zero per poi, chissà, continuare anche con la prima edizione e andare avanti. Stamattina ci siamo insediati con il gruppo di lavoro,